Musica Riduzioni sul credito d'imposta per le sale cinematografiche nell'ultima legge di bilancio prevista dal governo per il 2019. Una manovra che le mette a rischio. La presidente del SIL Confesercenti, Cristina Giussani, in un articolo pubblicato in data 6 novembre dal quotidiano La Nuova di Venezia e Mestre, espone la propria preoccupazione sul disegno di legge di bilancio 2019, trasmesso dal governo alle Camere il 31 ottobre scorso. Il taglio del 25% al credito d'imposta previsto nella prossima legge di bilancio del governo a partire dal 2020 rischia di mettere in ginocchio anche 165 librerie del Veneto, in particolare quelle indipendenti. La manovra di questi giorni stabilisce, infatti, che a decorrere dal 2020 il credito d'imposta venga ridotto di 1,25 milioni di euro. Venerdì 9 novembre il sottosegretario del Ministero per i beni delle attività culturali, Gianluca Vacca, ha fatto sapere che si tratta di interventi che riguardano solo una parte delle agevolazioni e che comunque non incidono sul 2019. Cercheremo di pristinarle, conclude, già nella legge di bilancio del prossimo anno. Lavoreremo in Parlamento per trovare subito le risorse necessarie e in generale per introdurre ulteriori misure anche in questa legge di bilancio.